Buongiorno, buongiorno, benvenuti a Rassegnati, il podcast di Feff Academy. Rassegnati siamo noi tutti, a cui tocca tutti i giorni sorbirci la propaganda e l'ipocrisia dell'informazione, spesso pilotata e o incompetente dei nostri giornali mainstream. Io sono Matteo Bernabè, giornalista che per Feff Academy cura la sezione informativa. Questa è la rassegna stampa di mercoledì 31 maggio 2023. Allora siamo arrivati anche alla fine di maggio e ve lo anticipo già anche alla fine di questa prima stagione di rassegna stampa, di rassegnati perché da domani con i mesi di giugno e luglio e agosto mi fermerò. Vediamo se durante l'estate avremo qualche diretta, qualche altra iniziativa. Comunque continueranno i video settimanali, questi li continuerò a fare, anzi li riprenderò a fare visto che nell'ultimo periodo mi sono fermato un attimo, però quindi durante l'estate faremo qualche video tematico insomma dei soliti che ovviamente se ci seguite da un po' sapete insomma riconoscere sicuramente. Detto questo iniziamo subito con il Corriere della Sera perché stamani si parla e si apre con le reazioni legate appunto alla guerra in Ucraina. Droni su Mosca, il titolo principale del Corriere della Sera, l'ira di Putin, prima incursione in un'area residenziale russa. L'Ucraina dice non centriamo, colpiti tre edifici nel quartiere della Elite. L'azione dopo un bombardamento su Kiev. La guerra arriva a Mosca, i droni colpiscono tre edifici in un quartiere residenziale della capitale russa. Putin minaccia ritorsioni ma Kiev risponde. Non siamo stati noi il lancio dei droni dopo un bombardamento sulla capitale dell'Ucraina. Detto questo, guardando nell'Europa dell'Est c'è anche un altro focolaio che non ci fa stare tranquilli perché quello del Kosovo è la notizia che riporta sul colonino di destra appunto esattamente a fianco alla notizia principale sull'Ucraina ed è appunto quella che le notizie che arrivano dal Kosovo. Zvekan diventa una polveriera, scrive il Corriere dei Serbi in piazza, dicono il Kosovo è nostro. Intanto la Nato invia altri 700 soldati. Il giorno dopo l'attacco è tra l'altro un'altra di quelle situazioni create naturalmente dalla Nato, questa del Kosovo. ovviamente, come molte delle cose. Dopo vedremo cosa scrive un fine commentatore politico sulla prima pagina di Repubblica relativamente a tutte queste vicende. Il giorno dopo l'attacco che ha ferito 34 militari, tra i quali 14 soldati italiani, due ancora ricoverati e gli altri stanno bene, l'atmosfera in Kosovo rimane intrisa di violenza. Zvekan sembra davvero un mondo capovolto, sul viale che conduce in centro quasi ogni velletta espone la bandiera serba e quella russa. Anche qui le notizie che arrivano da quelle parti, visto che comunque c'è la presenza bella, diciamo, importante della Nato da quelle parti, occhio, come tutte le notizie che arrivano dall'estero, questo lo dico sempre, occhio ad avere più fonti di informazione possibili per farsi un'idea il più equilibrata possibile, perché chiaramente bisogna essere consapevoli che da questa parte siamo vittime in qualche modo della propaganda e della narrazione filonato, eccetera, eccetera, che è intrisa in tutti praticamente i media, che viene propagata da tutti i media. Quindi occhio, trovate altre fonti di informazione, fonti naturalmente fidate, non fonti, diciamo così, alla cazzo decane sui social o quello che può passare così da gruppi, telegram, eccetera. Andatevi a cercare delle informazioni naturalmente più affidabili, possibili. Diciamo, possono esserlo anche dei quotidiani, diciamo, esteri, non rientranti nella sfera di influenza occidentale. Ecco, già così, già andando a vedere cosa scrivono di certe vicende altri giornali, diciamo, esteri, potrebbe essere un buon modo di approcciare la questione, insomma, per capirci un po' di più. Detto questo, detto questo, detto questo, la fotonotizia invece è dedicata a quella che definirei la passerella dell'ipocrisia, perché ieri Mattarella in Pompamagna, arrivato in Romagna, dove, che purtroppo è stata messa in ginocchio dall'alluvione, sappiamo bene, Mattarella tra gli alluvionati, niente pause negli aiuti, dice, Romagna ferita, ma siamo tutti con voi. Questo è un panorama di ferite, dice il presidente Sergio Mattarella, Mattarella sorvolando le zone alluvionate della Romagna, ma ce la farete, l'Italia è con voi. E si vede nella foto Mattarella con i volontari, il presidente della regione e il sindaco di Forlì. Detto questo, perché l'ho ribattezzata la passerella dell'ipocrisia? Perché naturalmente qui si continua a tagliare investimenti pubblici, naturalmente per mitigare il rischio idrogeologico e questi sono dati perché nel corso degli ultimi anni gli investimenti pubblici per questo genere di interventi erano pari a 60 miliardi nel 2010 e sono scesi a 40 nel 2014 e praticamente da lì non si sono più mossi. Siamo quindi con un deficit, sostanzialmente un vero deficit, perché qui si tratta di deficit reale, di mancanza di interventi necessari per mitigare questo rischio idrogeologico di circa 20 miliardi, che non è poco se pensiamo che 20 miliardi sono poco meno di una legge di bilancio, di una finanziaria. Quindi questo ci dà la dimensione del danno che la politica applicando i sacri dettami di Bruxelles, i sacri dettami di Bruxelles naturalmente accolti e propagati da Mattarella, ma anche dallo stesso presidente della regione Emilia Romagna, Bonaccini, insomma portano il governo, come sappiamo bene, a ridurre le spese, a tagliare gli investimenti e questi sono i risultati naturalmente di questa austerità e vediamo che dal punto di vista del governo non c'è purtroppo un cambio di passo su questo fronte. Abbiamo visto il DEF, insomma che cosa dice il documento di economia e finanza del governo che insomma ci dice sostanzialmente che si rinizierà con gli avanzi primari a partire dal prossimo anno. L'avanzo primario molto semplicemente è che lo Stato toglie dalle tasche di cittadini e imprese più di quanto mette, ok? Questo è l'avanzo primario. Sostanzialmente quindi dal prossimo anno il governo rinizierà a togliere dalle tasche di cittadini e imprese e questo non è buono, però qui si fanno le passerelle, siamo vicini alla popolazione, eccetera, eccetera. Vabbè, questo è quanto. Detto questo poi c'è naturalmente il commento di Antonio Polito che non potevamo risparmiarci ovviamente, il declino del paese non visto dice, sostanzialmente dice che quando la natura colpisce, diamo la colpa all'uomo, al suo consumo del suolo, al cemento, alle strade, il nostro ininterrotto scrivere la storia della civilizzazione lascia certamente i suoi segni sull'ambiente, può combinare guai, ma se guardiamo con attenzione a quello che è successo in Romagna ci accorgeremo che i disastri peggiori sono piuttosto avvenuti lì dove l'antropizzazione, la presenza dell'uomo e il suo intervento sul territorio è stato minore. Sì, c'è stato meno intervento, ma sono stati meno gli interventi, diciamo, gli investimenti pubblici ad avere, diciamo, avuto un ruolo importante, cioè questa riduzione di interventi pubblici per mitigare il rischio idrogeologico hanno causato, sono stati uno dei fattori importanti che hanno causato questa roba qui, questa roba qui. Detto questo, tornando alla politica invece, perché qui nei giorni scorsi ci hanno fatto due palle tante dicendoci che con Eli Schlein la sinistra aveva avviato il suo cambiamento, questo vento di Eli Schlein, poi arrivano le elezioni, Eli Schlein prende la mazzata e i titoli dicono questo. Stamani sul Corriere c'è scritto PD, tensione su Schlein, basta fare da sola il virgolettato, le voci nel partito, subito un vertice, eccetera, eccetera. Una cosa che adesso riprendo sulla prima di Repubblica perché chiaramente apre con il titolone i tormenti del PD, il giorno dopo la sconfitta, Schlein deve fare i conti con il clima teso nel partito, poi parla Franceschini, dice l'ex ministro che ha sostenuto Eli Schlein nella corsa segretario del Partito Democratico, Franceschini che dice Eli non ha colpe, la svolta ci sarà l'europea, quindi occhio che la svolta ci sarà l'europea perché da quello che ci avevano raccontato invece, mi sembrava due settimane fa, Repubblica proprio nello specifico ci diceva, ora vado a riprendere un attimo quella cosa lì, se non sbaglio, se non sbaglio, no aspetta forse ce l'ho da questo lato qua, allora vediamo, ve lo faccio vedere perché avevo fatto uno screenshot proprio di quel, eccolo qua, eccolo qua, ora lo provo a mettere in pagina, vediamo se, eccolo qui, eccolo qui, eccolo qui, l'onda il 16 maggio, la Repubblica, l'onda di destra si è fermata, 30 maggio che era ieri, praticamente il vento della destra, ma come, si è fermata o no questa onda di destra, l'onda di destra si è fermata però il vento di destra no, potrebbero giustificarla anche in questa maniera qua da Repubblica, vabbè, detto questo, detto questo, la cosa, tornando alla questione geopolitica, guerra in Ucraina, Nato, eccetera, eccetera, che dicevo prima, questo filosofo francese, commentatore, editorialista, che insomma scrive saltuariamente anche su Repubblica, Bernard Henry Lévy, dice, l'ONU tolga quel seggio ai russi, una delle armi di cui dispone Putin nella guerra totale che sta conducendo contro l'Ucraina e lo status di membro permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, minchia, cioè se dovessimo applicare questo ragionamento, diciamo, in maniera, diciamo, equilibrata e totale su quello che è successo sulla storia degli ultimi 70 anni, gli Stati Uniti, quel seggio all'ONU avrebbero dovuto perderlo 70 anni fa, di fatto, cioè, ma di cosa stiamo parlando? Questa è la grande ipocrisia che comunque continua a vigere sulle prime pagine, nessuno alza il ditino per dire, signori, ma perché continuate a dire queste puttanate, se scui pedali? Se vogliamo togliere il seggio della Russia nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU, benissimo, allora andiamo a vedere che cosa ha fatto anche, per esempio, gli Stati Uniti, visto che non è che si sono risparmiati in invasioni, guerre, attacchi, bombardamenti negli ultimi 70 anni, ecco. Detto questo, invece, in fondo, questa è una mia impressione che voglio dichiarare, spero che sia, appunto, confermata, nel senso che qua, no, si sta facendo, sta serpeggiando un po' questa nuova paura, no, sta venendo a gala questa nuova paura relativa all'intelligenza artificiale, il titolo piuttosto, diciamo, catastrofista di Repubblica stamani è intelligenza artificiale e ora è tra i rischi anche la nostra estinzione, l'umanità potrebbe estinguersi per colpa dell'intelligenza artificiale, questa volta l'allarme è ancora più esplosivo perché arriva direttamente da coloro che hanno acceso la miccia, Sam Heltman, CEO di OpenAI, è tra i principali firmatari di una lettera inquietante. Ora, io non vorrei, nel senso, sicuramente queste persone hanno sicuramente più competenze di me per giudicare la situazione, però a me sembra, diciamo, leggendo un po' in qua, un po' in là, che stia montando questa onda di terrorismo mediatico che, diciamo, io dal mio osservatorio non la vedo ancora, speriamo ovviamente che non si vada in quella direzione, ovviamente. Detto questo, passiamo sulla prima della stampa, ecco, Stamani a pontificare sulla prima della stampa di solito ci sono Monti, tutti i distruttori dell'Italia passano dalla prima pagina della stampa, sempre. Di solito c'è Monti, di solito c'è la Fornero, Stamani c'è Prodi, c'è Romano Prodi, non il fratello, diciamo, che chiaramente non viene intervistato da nessuno perché altrimenti va a smontare un po' troppo tutta quella narrazione sul clima, sul cambiamento climatico, eccetera, eccetera, ma in realtà viene intervistato Romano Prodi, ex premier, quello che ha svenduto, uno di quelli che insieme a Draghi ha svenduto l'Italia e lui dice, lui dice, no, in Italia involuzione autoritaria, intervista Prodi, il governo vuole tutto, Schlein doveva schierarsi contro i contestatori di Rocella, Meloni prova a compattare i conservatori europei, intanto compreso Vox e cita Renan teorico della supremazia della razza, vabbè, questi siamo sempre lì a fare, no, i finti antifascisti perché poi di fatto i veri fascismi oggi non vengono riconosciuti da quella che è la stampa, diciamo, cosiddetta fintamente progressista, ecco, e quindi Prodi dice che così siamo davanti a un governo che punta a prendersi tutto, c'è una parola semplice che riassume tutto questo autoritarismo, invece quando sono state applicate le leggi più liberticide e discriminatorie della storia della Repubblica italiana, Prodi non ha ravveduto questo autoritarismo per fargli un complimento, quella robaccia lì era autoritarismo, per fargli un complimento. E poi naturalmente sulla questione del dibattito sulla RAI, sulla lottizzazione della RAI, come vogliamo diavolo chiamarla, Prodi dice stamani che il governo vuole tutto, come tutti i governi precedenti che ci sono stati a Palazzo Chigi, insomma non vedo nulla di strano da questo punto di vista e naturalmente questo fa, diciamo, si inserisce anche un po' in quel dibattito sulla questione della RAI, sulle nomine, no? Perché il governo giustamente vuole mettere lì i suoi uomini come hanno fatto giustamente, o meglio, come da prassi in qualche modo, il governo mette lì i suoi uomini come hanno fatto tutti i governi precedenti, quindi quando è a farli Prodi le nominerai va bene, quando è a farle la Meloni no? Vabbè, comunque questo naturalmente poi ci porta nella direzione di quello che scrive Alessandro De Nicola, che è questo, che è un liberista, turbo liberista, di fatto, il presidente, mi sembra, dell'Adam Smith Institute o un'associazione che fa riferimento ad Adam Smith, insomma, in qualche modo, che dice ora privatizzate la tv pubblica, eh ci manca solo da privatizzare la tv pubblica, poi la privatizzazione dell'Italia è completata di fatto, cioè cosa manca ancora? Cosa manca ancora? Manca la svendita totale delle restanti partecipazioni statali all'interno delle aziende strategiche e poi abbiamo finito, quindi ovviamente questa scusa, no? Della lottizzazione eccetera viene sempre tirata fuori per portare a una privatizzazione della tv pubblica, in realtà ci sono tv pubbliche, vedi la BBC per esempio, nel Regno Unito eccetera, che lavorano molto bene nonostante siano pubbliche, cioè nonostante, nonostante tra virgolette, siano pubbliche e non sono addirittura, non sono privatizzate, cioè ma di cosa stiamo parlando? Detto questo, quindi non è questione di, diciamo, di nomine, è questione di come poi, no? Un paese, l'opinione pubblica di un paese, diciamo, reagisce a una certa impostazione politica propagata in qualche modo dalla tv pubblica. Detto questo, detto questo, mi ha fatto ridere stamani sulla prima della stampa, o meglio come la stampa, sulla prima pagina, percula il governo sulla questione dei migranti, perché giustamente scrive, paradosso da patrioti mai così tanti sbarchi, cioè dicono sostanzialmente che negli ultimi dieci anni non c'erano mai stati così tanti sbarchi, diciamo, alla data di oggi, perché sono quasi 50 mila, con la sola eccezione del 2017, e giustamente questi fanno notare, ma qui siamo di fronte al governo, no? Dei porti chiusi, del blocco navale, eccetera, eccetera, e c'è il record di sbarchi di migranti, che è quello che già avevamo evidenziato, mi fa ridere insomma che ci sia questa perculata da parte della stampa nei confronti del governo. Detto questo, passiamo sulla prima del sole 24 ore, gelata sui prezzi alla produzione, il titolo principale, l'Istat rileva ad aprile un calo mensile del 4,8%, mentre su base annua del 1,5%, in frenata ai costi energetici, proprio per questo sostanzialmente. Quindi c'è stato un calo, chiaramente, del prezzo del gas, che comunque resta molto più alto, diciamo sempre questo, rispetto a un paio d'anni fa, questo ovviamente, però questo calo chiaramente ha portato anche una riduzione dei prezzi alla produzione dei beni. Questo naturalmente è una notizia, diciamo così, buona, confermata la tendenza del primo trimestre con valori giù del 7,7%, sono i prezzi alla produzione dell'industria. Detto questo, la fotonotizia è dedicata al settore auto in Italia, perché la costruzione di auto nelle fabbriche italiane scrive il sole 24 ore quasi dimezzata in dieci anni. Un milione è la soglia di sopravvivenza della filiera e 473 mila è la produzione effettiva. Si parla di veicoli naturalmente, quindi siamo abbondantemente sotto quella che il sole 24 ore mette in evidenza come la soglia di sopravvivenza della filiera appunto del settore auto. Togliamo via anche il settore auto così andiamo più veloci verso il declino. Detto questo, l'altra notizia che mi interessava tirar fuori qua è la ratifica del MES, la famosa ratifica del MES. Il 30 giugno parte la discussione, io sto preparando già i popcorn sul cosiddetto fondo salva stati, in realtà sappiamo bene che è un fondo a fossa stati. Il confronto alla Camera, la maggioranza divisa alla prova del sì, l'Italia è l'unico paese dell'Eurozona a non aver approvato le modifiche. La proposta di legge di ratifica del MES, il fondo europeo salva stati, a fossa stati in realtà, approderà in aula alla Camera per la discussione generale il 30 giugno. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio, per la maggioranza si tratta di un passaggio cruciale, viste le opinioni divergenti al suo interno. Quindi, dicevo prima, sto preparando i popcorn perché voglio vedere proprio come si giustificherà, perché poi l'Italia ratificherà il MES, su questo non c'è dubbio, sarei chiaramente felice e sorpreso, in caso contrario, ovviamente. Tra l'altro sul MES, insomma, ne abbiamo parlato abbondantemente nel nostro archivio video, trovate sia su Facebook che su YouTube, trovate, insomma, diversi video in cui abbiamo affrontato la questione. Detto questo, sarei sorpreso se il governo non andasse nella direzione tracciata da Bruxelles, insomma, e da Francoforte, in qualche modo. Quindi un governo che, diciamo, con i due principali partiti che si erano schierati totalmente a grande voce contro il MES. Quindi, ora, diciamo, preparo il popcorn perché voglio vedere proprio come giustificheranno questa, l'approvazione di questa riforma del MES. Voglio proprio vedere lo vedremo probabilmente durante l'estate questa cosa. Poi l'ultima cosa che avevo selezionato è relativa allo shadow banking, perché qui praticamente di fatto di queste cose non si parla quasi mai, sono rarissime le occasioni in cui si parla di shadow banking, però è una cosa che per chi si approccia alla materia di economia e finanza, che dovrebbe conoscere lo shadow banking, banche e ombre in Europa valgono 30 miliardi, scrive il sole 24 ore stamani. La grande crescita dello shadow banking può diventare il focolato di una prossima crisi. Dopo l'ultimo e rapido rialzo dei tassi di interesse, dopo l'ultimo e rapido rialzo dei tassi di interesse ai timori dell'autorità di vigilanza globali, si sono aggiunti anche quelli del sistema finanziario Ombra stesso, fondi pensione, assicurazione, hedge fund, asset manager, i cui attivi nell'eurozona montano a fine 2022 a 31 mila miliardi. Il doppio rispetto al 2008 preoccupa soprattutto l'erogazione del credito pari al 26% di prestiti alle imprese non finanziarie. Ora su questa cosa dello shadow banking chiaramente non ci sto a entrare nel dettaglio, però posso dire che nel nostro video corso di economia e finanza completo di Feff Academy, registrato già qualche anno fa, però ancora validissimo da questo punto di vista, parliamoci a un capitolo proprio dedicato anche allo shadow banking. Quindi vi invito naturalmente se volete approfondire questo genere di questioni, anche partendo da zero, perché il nostro video corso naturalmente l'abbiamo strutturato per persone, per tutti sostanzialmente, quindi partendo da zero vi portano da che cos'è la moneta sostanzialmente ad arrivare fino a capire che cos'è lo shadow banking e come funziona. Quindi il percorso è un po' questo qua. Quindi chi volesse approfondire c'è a disposizione il nostro video corso di economia e finanza completo che è un prezzo veramente irrisorio, ridicolo, ridicolo nel prezzo, non nei contenuti, anzi vedrete che i contenuti sono molto molto validi. Se deciderete di iscrivervi al video corso di Feff Academy, tutte le informazioni le potete trovare su www.feff.academy. Detto questo, chiaramente il link li trovate sia in descrizione per chi ci sta ascoltando via podcast, ma lo trovate anche nel post e in descrizione sia su YouTube che su Facebook. Detto questo, passiamo sul messaggero che apre, l'unico giornale che apre con questo incontro che c'è stato tra la Premier Meloni e i sindacati, fisco piano per i redditi bassi, Meloni incontra i sindacati e le categorie, ampiamo dice il primo scaglione dell'IRPEF sul lavoro, incentivi per i contratti stabili di donne e giovani, previdenza, faro sulla spesa. Ora su questa cosa piano per i redditi bassi sarebbe sacrosanto ovviamente detassare chi ha meno naturalmente. Il problema sta sempre dall'altro lato, cioè che cosa fa il governo, perché qui siamo in un sistema che sostanzialmente siamo incanalati su quei binari dei sacri vincoli di bilancio naturalmente di Bruxelles, per cui naturalmente se il governo decide di, e questo governo è perfettamente in quel tracciato lì, che ne dicano che è un governo sovranista, un governo dell'interesse nazionale, niente di tutto questo. Naturalmente, dicevo, quindi essendo il governo diciamo perfettamente integrato in questa struttura, chiaramente se decide di tagliare i redditi da una parte, non tagliare i redditi, tagliare diciamo le tasse sui redditi da una parte e naturalmente dall'altra dovrà fare qualcos'altro per, diciamo, o aumentare le tasse da un'altra parte o tagliare la spesa e gli investimenti dall'altra, insomma, quindi una delle due cose le dovrà fare senz'altro. E qui si racconta sempre una parte e non si fa, diciamo, non emerge mai che cosa, diciamo, in quale modo poi il governo pensa di trovare, trovare, tra virgolette, le risorse per poter fare questo intervento, perché chiaramente sappiamo bene che essendo appunto il governo integrato in questa struttura, come ho già detto, ha escluso totalmente, in qualche modo, di ricorrere allo strumento importante, importantissimo del deficit pubblico, ok? E' questo che manca in qualche modo, no? E' la cosa principale che manca, infatti dal DEF risulta perfettamente come dal prossimo anno il deficit pubblico, già da quest'anno, insomma, ma anche dal prossimo anno, soprattutto il deficit pubblico, rinizierà a scendere e anche naturalmente l'avanzo primario, ovviamente. Detto questo, passiamo su, chiudiamo, anzi no, non chiudiamo con Panorama, perché poi c'è la verità come ultimo giornale, però vabbè, è uscito Panorama stamani, ma la cosa che mi interessava mettere in evidenza stamani su Panorama è questa cosa qua che vi faccio vedere, vabbè, la copertina di Panorama è dedicata a, diciamo, agli ambientalisti, a queste, diciamo, proteste chiamate ultima degenerazione, facendo un po' il, no, parafrasando quella che è il nome di una di queste associazioni, ultima generazione, i blitz per imbrattare opere d'arte e monumenti, le proteste a uso di telecamere condite da narrazioni apocalittiche sul futuro della Terra, qual è la strategia dei nuovi estremisti climatici e chi c'è dietro di loro, sostenitori e finanziatori ambientalisti a parole e manifatti molto sensibili al business. Ma la cosa che mi interessava qui stamani è relativa a questo articolo, la flotta fantasma, perché qua, no, la narrazione ci ha sempre raccontato, ancora una volta, questo, diciamo, se ce ne fosse mai stato bisogno, questo è un'ulteriore conferma, di quanto la narrazione sia falsata da questo, insomma, quando si parla di Russia, guerra in Ucraina, eccetera, eccetera. E qui si parla di sanzioni, la flotta fantasma è il titolo, così il petrolio proibito dalla Russia arriva in Europa, la flotta fantasma appunto che parla di questa flotta di navi, fantasma, tra virgolette fantasma, che neutralizza le sanzioni. Una compagnia indiana carica il greggio russo in un porto sul Mar Nero, lo trasporta in una raffineria del proprio paese e da qui, aggirando il bando internazionale per l'invasione dell'Ucraina, appunto le sanzioni, fa arrivare petrolio in Occidente, Italia compresa. Panorama ne segue il vortice delle rotte. Quindi, come dicevo, a maggior ragione, insomma, di quanto la Russia sia isolata dal mondo e quanto le sanzioni funzionino poi di fatto, no? Comunque la Russia continua a fare la sua vita, tra virgolette, perché non è un paese isolato, perché non è un paese isolato, come cercano di raccontarci tutti i giorni. Detto questo, chiudiamo sulla verità. Apre con la politica per la Schlein, è già conto alla rovescia. Insomma, si dice che da Rumors sembra che resterà in carica solo fino alle elezioni europee. Cioè, non resterà in carica, diciamo, fino alle elezioni europee. Quindi entro un anno più o meno, perché ci saranno il prossimo anno le elezioni europee. Poi dice che viene ribattezzata Ellie Nine, anziché Ellie Schlein. I PD, i 5 stelle a pezzi in fuga dal campo largo. Detto questo, poi si dice, l'altra notizia che riporta in grande evidenza, centropagina riguarda la guerra e adesso le guerre in Europa diventano due. I droni ucraini colpiscono Mosca che risponde, ma intanto si infiammano anche i Balcani. Il segretario del Partito Popolare Serbo dice patti violati, provocazione continue dei kosovari, così non si può andare avanti. Ma la cosa che mi interessava di più è in questo box, proprio sotto, insomma, a centropagina, in cui c'è un articolo firmato da Mariana Canema e da Elena Loi che si parla ancora, giustamente, si tiene riflettore puntato su quella che è la questione dei vaccini, delle discriminazioni che sono state portate, delle falsità che sono state propagate, dei non detti, vaccini, effetti avversi ed eccessi, così a EIFA, Istituto Superiore di Sanità Istat, negano i dati. Lo scopo di fuori dal coro, l'AIFA fu restia a fornire dati su effetti avversi ed eccessi all'OMS e perfino al proprio ufficio stampa. Ma la trasparenza manca anche da Istituto Superiore di Sanità e Istat. Mentre l'ente di Brusaferro, appunto, l'IS non ha mai fornito dati utili, quello di statistica ignora lo status vaccinale dei deceduti. di AIFA surreale, poi dice, riporta questo virgolettato veramente surreale, dice a causare la morte non è il vaccino, bensì le sue reazioni. Bene, me coglioni, come dicono a Roma. Bene, mi sembra che su questo per stamani non ci sia altro da aggiungere. Questa era la rassegna stampa di mercoledì 31 maggio 2023 da Matteo Bernabè. Una buona giornata e una buona estate. Comunque ci rivedremo durante l'estate, non vi preoccupate. La rassegna poi ripartirà a settembre. Non però escludo sorprese durante l'estate. Grazie a tutti ancora per averci seguito fino a oggi. Siete stati sempre di più, lo devo dire questo. Fortunatamente continuate a seguirci sui nostri canali, naturalmente, sui social Facebook e YouTube. Soprattutto per chi non è ancora iscritto al nostro canale di YouTube, vi invito a iscrivervi sul nostro canale di YouTube perché anche lì ci sono dei contenuti e questa rassegna, insieme poi ad altri contenuti, usciranno prima su YouTube e poi su Facebook. Detto questo, insomma, vi invito ancora ad iscriversi al nostro canale di YouTube e attivare la campanellina. Ah, dico un'altra cosa. Il martedì, invece, ci vedremo per una decina di minuti, intorno alle 8 e 10, dalle 8 e 10 alle 8 e 20, più o meno, con l'amico Giuliano Marrucci su Ottolina TV per, diciamo, commentare una notizia in diretta. Quindi seguite anche, chiaramente, Ottolina TV che fa dei contenuti interessanti con l'amico giornalista Giuliano Marrucci. Bene, mi sembra che non ci sia altro da aggiungere. Per chi volesse approfondire certi temi, l'estate può essere un periodo molto proficuo per poter, diciamo, iscrivervi al nostro corso di economia e finanza completo. Potete farlo su www.fef.academy. In regalo c'è anche il libro di Stefani Kelton, lo ricordo sempre, Il mito del deficit. Bene, mi sembra che non ci sia davvero altro da aggiungere. Ancora buona giornata e buona estate a tutti.